Sì, buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Ecco, noi ci troviamo proprio nel cuore di Palermo, in questa palazzina, al quinto piano di questa palazzina, viveva una donna di 37 anni, Emanuela Candela. La sera di due giorni fa, purtroppo il marito ha tentato di entrare all'interno dell'abitazione, ma la porta era chiusa, era chiusa proprio dall'interno. Ha chiamato i vigili del fuoco e la terribile scoperta all'interno di questa casa, più precisamente nel bagno, è stato trovato il corpo senza vita di Emanuela, una giovane sposina, pensate che si erano sposati soltanto da sette mesi. Che cosa è accaduto a Emanuela? C'è un'indagine in corso, non si esclude nessuna pista, potrebbe essere stato causato il suo decesso dalla morte volontaria, ma non si esclude neanche la mano di una terza persona entrata all'interno dell'abitazione, anche se dobbiamo dire che questa abitazione si trova al quinto piano. Che cosa potrebbe essere accaduto? Il tutto è al vaglio degli investigatori, la procura, come dicevamo, la procura di Palermo ha avviato un'indagine e tutto rimane in piedi. Ecco, all'interno di questa palazzina vivono anche i genitori di questa giovane donna, questa giovane donna che proprio circa un mese fa scriveva un post su Facebook, ringraziando Dio di avergli donato una seconda vita, la seconda possibilità. Perché questo? Perché aveva avuto dei problemi di salute che erano stati fortunatamente superati, questo almeno è quello che ci hanno detto anche i vicini di casa. Poi che cosa sia accaduto all'interno di questa abitazione non è dato a saperla al momento. L'indagine sta andando avanti, si sta cercando di far chiarezza, ma soltanto l'autopsia potrà sciogliere i tanti dubbi, i tanti dubbi della famiglia, i tanti dubbi del marito. Sarà in corso nelle prossime ore un'autopsia, il corpo si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria e in questo momento presso il policlinico di Palermo. Dicevamo questa giovane donna che aveva tanti sogni, tanti progetti con il marito, una sposina di neanche un anno, sette mesi e appunto ringraziava Dio per aver avuto una seconda possibilità e per aver avuto la possibilità anche di continuare a vivere la sua vita accanto al marito. La comunità, ma soprattutto le persone che vivono all'interno di questa abitazione si dicono scioccate per la tragica morte di questa donna, soprattutto perché le cause non sono ancora state chiarite. Al momento possiamo parlare di questo giallo di cui non si sa nulla, ma che presto verrà sciolto proprio grazie all'esame autoptico e alle indagini che vengono condotte dalla squadra mobile di Palermo. Grazie alla nostra San Rocco.